chi sei? Mudimbi. Questo qua. Avevo letto tu chi sei? Il primo che ho letto Morandi. Sono Morandi. Sono arrivati quattro artisti. Quattro artisti. Tre persone. No, i nomi sono tre. I nomi sono. Esatto, è Mudimbi. No, non entro io. Entrate molto. Tanto le canzoni le sanno. Così sappiamo che una busta è già andata. Riccate. Chip e chop. Ma ti sei dimenticato di dargli un nome? Tipo non c'era il mio? Non c'era scritto big star. Come va bene te. Allora, frate. Una minchia, proprio tenda a beduina. Ciao. Io faccio un po' di video, se non mi dà fastidio. Sono già tutti veramente pazzeschi durante il giorno, eh? Sì, eh? Sì. È arrivato il capo. Che vuole anche un po' di tutti. Maestro! Io sto bene. Sinceramente bene. Sì, sto scrivendo parecchio. Twitch a me a livello psicologico ha veramente aiutato, ma proprio tanto, perché io mi ero scontato un malissimo posto a Sanremo, potermi riconfrontare in diretta con persone che stanno lì ad apprezzare quello che fai. E quindi non è un carico un posto e aspetto. Ho il contatto diretto. Poi ho iniziato ad inserire un gioco con la mia stessa musica. Quindi loro vedono le mie prove, che non cantavo da quattro anni, quindi vedono tutti gli errori. Per ogni errore che faccio, loro guadagnano dei punti e una volta che arrivano un tot punti ci sentiamo a telefono in diretta. Quindi è bello per tutti. Possiamo fare le coriste di Whitney Houston. Buonanima! Love you! 16 e 15, sì. Questa prossima volta! Ragazzi! Ah, se mi senti detti un cuore, ti hai chiesto a tua madre dove la fanno, ti puoi decidere? Ah, però almeno fa presto. Le Mudin B20! Mudin B5! Se c'è qualche fan che mi ha detto io per te farei qualcosa, dico, tipo, io per te uccidere mia madre, ma per quale motivo? Video di prova numero uno! Allora, tutto il pubblico, questa è Michelle che fa un elenco delle cose che gli servono. Ma stai spiegando quello che fa! Difficilmente mi verranno i miei soliti sintomi d'ansia da parcoscenico, che sono sonnolenza, bestiale, sbadiglio, arrutti. Sì. Io mi prendo dell'acqua che se mi serve dopo e non ce l'ho sono cazzo. Va bene. Ah, loro vanno. Ok. Quando vuoi ci avviciniamo in base ai tempi tuoi di... Sì, 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 già ci sono. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vi siamo, vi siamo, vi siamo, vi ci hanno fatto la luce negli occhi. E a credere che... Vediamo l'acqua. Ho bisogno di qualcosa, lì, va già, è sul cemento. Prima del prossimo fetto... Eh, infatti... O mi hanno scambiato per qualcuna... O mi hanno scambiato per qualcuna... lascoli piccoli vanno tutte posso spostare intanto io ti mando qualcosa intanto vediamo se arriva qua ecco la gente sarà quindi tutta intorno oggi c'è un amico gli è capitato anche nei suoi passaggi di artista di passare da quello che si chiama il festival di Sanremo ma è stato diciamo una parentesi perché poi la sua storia viene da lontano e va lontano quello che mi piace di lui è che è molto difficile da definire quello che fa e a me piace quando le cose non riesco a definirle il suo nome è Mutimi Mutimi dal Contiki Stage che è il palco dell'avventura la nostra zattera io direi che possiamo iniziare subito la nostra zattera la nostra zattera la nostra zattera perché con questa faccia faccio tipo oh 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 il cuore come oh 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 bravi ti scorderò anche di te scorderò che scorderò anche perché abc è arrivato a di di te di morire grazie mille mi prendo presso i fondi per respirare fatto e ma così tutti mi dicono che sono il mio figlio che è un jazz No, no, no. E se vuoi chidarlo dentro di diridico no Saranjante poco zette e nunca caver di donno Ovi di guadini come se ne suyo qui guarda se te E mi minima limo, andai faccio il guanico Sto fuori di testa della festa, sono l'animo Guarda come tondolo, quando sono calico Solo per movimento di faccio sempre spatico E salto, dico E con l'animo passo di danza per me come osiccio e no A un grande gruppo di persone Grazie mille Che è da, comunque Fantastico Buon divertimento Allora, arrivo eh Grazie mille Vai, facendo foto? Vai Salve a tutti, noi siamo i festegni mostro Veniamo da qui Ah, abbiamo la fotografica E' bellissimo E' bellissimo E' bellissimo E' bellissimo E' bellissimo E' bellissimo Io non li so fare Io non li so fare Li fai Grazie mille non sapevo che vivevi qui grazie mille oh chi è? si sentiva? con questa voce era come Lundini con Saviano ma come si chiama? si chiama mio figlio comunque è un casino fare questa roba dei video anche c'è solo quando c'erano i fan sul finale quando avevi finito infatti lì quando mi sono girato e non c'eri più ho dovuto fare tutti da solo c'era qualche mini boom? tu conoscevi mia madre? uno dei ragazzi con cui sto producendo cose nuove hai giocato in casa? si 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 infatti l'ho scelta anche per quello sono uscita a vedere bene perché poi quell'ora non è facile infatti tra l'altro l'intro con già la musica e due parole e poi si è partito infatti ero indeciso se partire subito però mi ero preparato quel lupino infatti quello lì ha svolto tutto ma quello è Riccardo no? il bambino Riccardo Onori non è facile tu basta che mangi che cazzo te ne frega tutto bene mi sto rimettendo in moto sto scrivendo un sacco di cose quando c'è tante cose suonate cioè tante per i miei standard ti odori ragazzi Paola 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 L'ח Skipa cosa? Piaola io a un certo punto venendo andiamo via con la rischio sono contento messiare qua e poi e poi e poi poi ero intonato e mi sentivo eccezionalmente intonato e con una voce polenta vediamo com'è Mi è sembrato un po' strano Sei il miglior videomaker che abbia mai avuto Anche con Big App Yasser Afghanistan Big App Yasser Scusi, ma ne chi è? Ehi, se mi fa agli acce Cioè vestito con i jeans e le ciappate Proprio da predatore sessuale dell'Hawaii Grazie 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 Vai 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 Grazie 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ti sei paralizzato Era il tuo momento Hai lavorato tutta una vita per questo Poi te con il modo che hai di scrivere Cioè potresti permetterti di avere una cassa Mega, gigante, sotto, britta Due percussioni sopra Quasi neanche un suono in certi pezzi E tu ti fai tutta la storia Come? Ci restiamo a fare una cosa Oh Oh Alla Ogni corda è illuminata Giorno Borelli Fatti d'andare dalla mamma Questo da che va L'immagine che va L'ammerico del mondo Alla chitarra, il fotonico Riccardo Loni E io mi chiamo Lorenzo Cherubini In arte, giovanotti E vi saluto e vi ringrazio 1, 2, 3, 4